Buonasera, questa di oggi è la quarta puntata del nostro programma, un appuntamento che si preannuncia come sempre molto interessante e per l'argomento che andremo a trattare per lo spessore, io direi, tecnico-politico-culturale degli ospiti che abbiamo in studio, che vi presenterò subito dopo aver visto, secondo appunto lo schema, la struttura del nostro programma, quindi dopo aver visto, dicevo, la scheda che introduce il dibattito. Sarà possibile anche questa sera rivolgere domande, quesiti ai nostri ospiti telefonando direttamente alla redazione di Controluce dove c'è come sempre Elena Cardona, quindi a questo punto io pregherei la regia, Carlo Calendi, di mettere in onda questa scheda. Grazie, a tra breve.